Perchè Tyr aiutò Odino a incontrare i rei dei giganti? Odino aveva convinto Tyr che il martello fosse solo un deterrente per ottenere una pace più vantaggiosa. Tyr sperava di convincere tutte le fazioni che in pace avrebbero prosperato. Sapeva che i giganti erano molto preoccupati per il martello. Una superarma in mani poco fidate, ma si fidavano di Tyr. Tyr vedeva sempre il meglio nelle persone e convinto dalle parole di pace di Odino, portò il dio corvo ai ottenari. La situazione si deteriorò in fretta. I giganti si aspettavano l'inganno di Odino e scoprirono il suo vero piano, spiare e rubare i loro segreti. Grazie alla loro magia cacciarono per sempre Odino dal loro regno. Oh, te la posso raccontare più tardi. Ti seguo a ruota! No! Però questa c'è molto più vicino! Presente se ci passasse! Ma sensazione è un po' proettone! No! Ma hands slotsa! Ah! 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 A presto! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Gorgi, Gulvig, svegliati, oh potente Gulvig! Erni uccarbiziasti. Soddisferà la nostra richiesta. E' di fatto no. E ci ricongiungerà. In Gauda! Ok, avrai via giù. In subito! Prova! Ancora no. Acqua via! Dietro di te! Occhio! Scusa, no! Scusa! Padre, attento! Scusa, no! Oh, no! Suma! Va! Padre, attento! Ben, il... te l'avevo detto. Te l'avevo detto. Sei ingenuo e sciocco. È vero. Ma non sfogare la tua delusione su di me. Impara la lezione. Bene.